un saluto a tutti e benvenuti su gamescore.it io sono nico e oggi vi porto l'unboxing e le mie prime impressioni di questi due prodotti firmati corsi qui alla mia destra abbiamo il cutter pro xt mentre lì abbiamo il mousepad mm 710 rgb quello ragazzi è un tappetino veramente extra large quelle sono le dimensioni 93 x 40 x 4 mm di spessore ha una particolarità ovvero il suo perimetro è praticamente come una striscia led rgb quindi si illumina tutto e di conseguenza se amate le lucine quello potrebbe essere il prodotto che fa per voi invece parlando di questo mouse potrà sembrarvi un deja vu perché proprio qui sul canale vi ho portato già l'unboxing di questo mouse in realtà anzi effettivamente sono due prodotti dall'estetica identica stesse scocche stesse dimensioni ciò che cambia è all'interno e qualcosina anche all'esterno infatti come avete intuito dal nome qui abbiamo un prodotto wireless quindi senza fili destinato a un pubblico che non ama i fili qui abbiamo invece un prodotto pro xt quindi stiamo a livello extra un livello premium di chi vuole le performance e quindi il cavo è necessario è un prodotto orientato al mouse ultraleggeri super leggeri infatti pesa veramente poco la differenza tra i due è che qui abbiamo un sensore molto più performante infatti vi faccio vedere qui è riportato un sensore ottico da 10.000 dpi e qui abbiamo un sensore ottico da 18.000 dpi qui abbiamo una possibilità di personalizzazione di step di ogni 100 dpi qui abbiamo una personalizzazione totale praticamente possiamo modificare di un dpi alla volta quindi veramente una bomba il sensore di questo mouse togliamo questo davanti alle scatole e parliamo di lui visto che vi ho già fatto vedere la confezione direi già di aprirlo e scoprire cosa c'è all'interno ragazzi io ho già rimosso i sicili perché non mi piace armeggiare con forbici o cortelli quindi mi sono già portato avanti però in realtà è la prima volta che lo apro allora abbiamo questo involucro di cartone a proteggere il mouse via una bustina con all'interno il mouse in più abbiamo la solita manualistica che non ci serve parliamo del mouse la forma come vedete è una forma simmetrica anche se non è un mouse per mancini in quanto abbiamo i pulsanti orientati soltanto sul lato sinistro e quindi a portata di pollice della mano destra è possibile usarlo anche per chi è mancino ovviamente disabilitando questi due pulsanti in modo da non avere clic involontari il materiale è totalmente plastico non ci sono i soliti rivestimenti in gomma quel rivestimento soft touch se lo vogliamo chiamare e secondo me è un qualcosa di molto positivo perché la maggior parte di quei mouse a distanza di un anno o due iniziano a spellarsi e diventano veramente dei mouse vissuti possiamo dire sono proprio brutti da vedere dopo che si rovinano tutti viene tuttavia quella pellicina invece questi sono mouse molto più duratori hanno comunque un ottimo grip perché qui sui fianchi in entrambi i casi abbiamo questa texture che rende ruvida la superficie e aumenta il grip comunque anche le scocche sono opache e hanno una finitura leggermente ruvida il grip assicurato le dimensioni sono abbastanza contenute infatti la mia mano non è una mano gigante una mano diciamo nella media mi trovo abbastanza a mio agio comunque anche se riesco poi a coprirle praticamente tutto il mouse i piedini sono solo due sotto ma sono molto ampi dopo vediamo come scorre qui scorre che una bellezza e mouse infatti vola via dopo vediamo come scorre sul tappetino i tasti sono solo cinque i click sinistro e destro hanno degli switch ombron da 50 milioni di click quindi uno switch molto cloudato è decisamente affidabile qui abbiamo sono forse duri il giusto possiamo dire e sono comunque abbastanza sporgenti quindi facilmente raggiungibili ecco abbiamo messo a fuoco qui abbiamo il pulsante per cambiare i dpi la rotellina è gommata ed è l'unico elemento del mouse che si illumina nella rotellina ci sono dei led rgb stranamente il logo è solo stampato e quindi non si illumina scelta di corsair parliamo comunque di un mouse che ha un prezzo abbastanza contenuto altra caratteristica il cavo paracord cosa vuol dire cavo paracord è un nuovo tipo di cavo che è molto malleabile sembra come un laccio di scarpe un laccio di scarpe da ginnastica a livello proprio di consistenza e anche tessuto devo dire questo aiuta tantissimo nei movimenti di solito quando abbiamo a che fare con un cavo di nylon intrecciato questo è molto rigido e quindi può dar fastidio nei movimenti invece questo qui essendo molto malleabile non dà alcun fastidio nei movimenti è quasi come avere un mouse wireless ma in realtà è cablato a questo punto direi che possiamo mettere da parte il mouse e andiamo a unboxare quel bestione là dietro anche qui ho già rimosso i sigilli qui nulla di che ci sono sorprese ecco manuali va bene ragazzi inutile che vi faccio vedere i manuali tanto anche questi non ci interessano abbiamo trovato anche un cavo andiamo a scoprire di cosa si tratta è un cavo da usb metto a fuoco usb 2 a usb c andiamo a capire cosa serve questo cavo vi faccio vedere il tappetino eccolo eccolo veramente gigante infatti mi sono allontanato tantissimo per poterlo inquadrare totalmente bella qui il logo corsair guardate la cucitura veramente fighissima qui segue praticamente un possiamo dire un tubicino trasparente che si illumina quello che però vi voglio far vedere è questa roba qui allora questo non è nient'altro che un controller qui abbiamo la porta usb di tipo c dove andiamo a collegare il nostro cavo per poi collegarci al computer non è nient'altro che un'alimentazione per il tappetino per far funzionare il led rgb qui abbiamo un pulsantino dove se non vogliamo utilizzare il software iq possiamo con questo pulsantino andare a cambiare i colori e gli effetti quindi senza andare a intervenire ogni volta dal software il logo corsair in questo caso si illumina però la cosa più carina è che abbiamo una e due porte usb allora queste ragazzi sono porte usb 2.0 di fatto questa scatolina qua oltre ad essere un controller per i led è anche un hub usb però non ha una buona alimentazione cioè qui possiamo collegare solo roba che consuma veramente poco cosa può essere questa roba qui può essere un mouse quindi possiamo collegare proprio il nostro catar pro xt possiamo collegare delle cuffie possiamo collegare a massimo una chiavetina usb però scordatevi di collegare un hard disk in quel caso lì questo controller non va assolutamente bene vi consiglio di collegarlo direttamente al vostro pc rieccoci ragazzi ho spento le luci per farvi vedere l'effetto delle luci dell'illuminazione rgb su questo tappetino ma anche sul mouse infatti questo piccolo segno che vedete al centro in realtà è il mouse mouse che scorre veramente la grande su questo tappetino e che sembra minuscolo si perde nell'immensità di questo tappetino vi ricordo che è un tappetino largo 93 cm e alto 40 cm da notare anche nell'angolo lì a destra è inutile che lo indico tanto non vedete la mia mano c'è il logo corsair sopra alla scatoletta del controller del tappetino che fa anche da hub usb ritorniamo con le luci ragazzi che dire questo mouse e questo tappetino con questa finitura in tessuto mi hanno veramente convinto veramente ottimo non resta che provarlo testarlo a fondo e scrivere la recensione che trovate sulle pagine di gamescore.it quindi se cercate maggiori dettagli di sicuro qui in descrizione vi metterò il link alla recensione completa con questo direi che il video si è concluso qui ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate scrivendo nei commenti se vi è piaciuto il video lasciate un like se vi piacciono i nostri lavori iscrivetevi al canale e attivate la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video gameplay e video unboxing ciao a tutti